Come hanno fatto Minas Tirith? Beh, sicuramente una miniatura! Peter Jackson ha sempre avuto una passione per farle saltare in aria. Beh, in realtà sono due le miniature. Una in scala un settantaduesimo, per le riprese totali, e una in un quarantaduesimo, per i dettagli delle strade. Ah, aspetta, aspetta! E per quella totale hanno creato più di mille case! Eh sì, non come quelle quattro catapecchie di Rohan. E conta che la miniatura era alta a sette metri. Che storia! Minas Tirith. E quei sassi lanciati sugli orchi. Mi sono sempre piaciuti i trabucchi. Pensa che quando li hanno costruiti in miniatura, per testarli si lanciavano le gomme. Ma dai, che scasso! Avrei voluto esserci io! Ma poi, vogliamo mettere Grond? L'arietazzo che sfonde i cancelli? Proprio lui, e in quel caso era grande come un furgone rivestito in piombo. Perché Grond è fatto di acciaio nero. Sì, vero. Ma sei troppo nerd. Beh, tu no? Ci rivediamo il film? E andiamo, dai, dai!